Cos'è quel suono? È il piede o sta... Non sto a scorreggere Ogni pugno un peto Ma cosa che sto fare io? Però devi stare attento a rampigliare una girocchiata in faccia E' questa Azzetta è questa Aiuto Muschio senaggio Focca sputico Federico Martì Muschio microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, 7 nuovi amici 20 minuti, 1 ora di argomenti Muschio selvaggio Ragazzi benvenuti a Muschio selvaggio Oggi abbiamo un ospite italianissimo e internazionale E' a ranking La posizione numero 2 dei pesi medi Della UFC Marvin Vettori Era buona come presentazione? Perfetta, perfetta Abbiamo rubato anche un numeretto mi sa Era tre Vabbè Però quando uscirà questa puntata sarai due magari No no può essere Top 5 quindi non cambia niente Io ho un sacco di domande perché io sono fan dell'UFC Non so tu Gigi Anche della box? Maglia azzeccata Ho messo la maglia a tema A me piace l'UFC Guardare due persone che si spaccano la faccia E' sempre intrattenente Poi in modo ovviamente professionale Un po' dei gladiatori Un'arte antica esatto Un'arte veramente antica C'è tantissimo studio in realtà Dietro qualsiasi incontro E qualsiasi fighter di livello Diciamo C'è un allenamento dietro Decennale Costante Costante Durante tutti i giorni Della propria vita E insomma Il test ultimo Un po' Come sport E' lo sport più Più challenging Che c'è secondo me Perché comunque ti metti alla prova E ci metti anima e corpo Quindi C'è una squadra dietro Ok Però Nel ring sei solo tu Quindi E' molto individuale Come sport Sì Assolutamente sì Perché comunque appunto Poi In gabbia ci entri tu Anche se Comunque nella preparazione Soprattutto nell'MMA C'è dietro un mondo Nel senso che E' un insieme di discipline E quindi ti servono tanti coach Tutti devono comunicare Soprattutto A livelli alti E tutti devono essere Diciamo Con lo stesso obiettivo On the same page E devono Cioè bisogna lavorare All'unisono Per poi dopo vincere Cioè tu dici E' quasi uno sport di squadra Nella preparazione E' uno sport di squadra Anche durante il match Anche perché comunque Quando poi hai qualcuno All'angolo di cui ti fidi Cioè Se ti dice Vai in clinch E butta la terra Cioè tu segui quello che ti dice Cioè è un po' come il navigatore Con Cazzo ti telecomando E' un po' E' un po' il joystick umano Il team Tipo il navigatore nei rally Eh sì E poi è tutta la responsabilità Come se non dovessi deludere La squadra che ti ha preparato E tutta l'ansia da prestazione Sì Sai che cosa ha lui poi Non so se lo interpreto bene Però Tu Essendo italiano The Italian dream Ti scontri sempre con persone Del posto Del luogo Quindi quasi sempre americani No? Ma tanti brasiliani Americani Ceceni Quando ti scontri Con quegli americani Tu sei il villain Della situazione Per gli americani Quindi c'è Tu vai nelle arene Dove la gente Non fa il tifo per te Probabilmente no? Sì Dipende Dipende Poi io ho un'immagine Un po' controversa Anche in certi momenti Cioè quanto il peso del pubblico Si fa sentire in una prestazione? Cioè quanto influisce? Cioè se hai Se dovessi fare un evento a Roma Con tutto il pubblico italiano per te Ti gaserebbe ancora di più? Te ne frega un cazzo? No no Cioè sicuramente sarebbe una figata Se potessi fare in Italia Un evento UFC Anche perché sarebbe il primo in assoluto E è uno dei miei grandi sogni Tra virgolette Portare la UFC in Italia Quindi sicuramente sarebbe una figata Allo stesso tempo Cioè Quando arrivi a certi livelli Devi performare sotto qualsiasi situazione In qualsiasi situazione Quindi Cioè se c'è il pubblico che mi carica Ben venga Se fa bu In realtà mi carica uguale Perché mi fa giro il cazzo Quindi Poi comunque c'è Devi essere super focus Sempre Quindi Non è che puoi farti condizionare Da così poco Però è un elemento Di cui si fa poco conto No? Però in realtà pesa Sentivo in pandemia Che alcuni fighter Godevano di più Nel silenzio Nel assenza del pubblico C'era più concentrazione Quello in tanti sport In tanti sport E poi è strano Ma io ho combattuto Hai combattuto in pandemia 3 o 4 match Durante la pandemia E non c'era pubblico Cioè ci sono state 200 persone Quindi si sentiva tutto Sì sì Però appunto Come ho detto prima A un certo livello Devi performare Non fa la differenza Quando entri in quella gabbia lì Può essere successo di tutto 10 secondi prima Lì non conta più nulla Perché ormai sei là Cioè Nella mia testa Io mi immagino proprio Che già quando esco Dal camerino Tra virgolette Ogni passo che prendo Dietro c'è il vuoto Non puoi più tornare indietro Quindi Ha maggior ragione Quando entri in gabbia Non Cioè ormai sei lì E pubblico Qualsiasi roba sia successo Non puoi influire E cioè Quando sali Il mindset È quello tipo Una questione di vita o di morte Cioè devo Cioè non dico ucciderlo Però L'intenzione è Non devo fermarmi Finché non tappa il tipo Finché non va giù Assolutamente sì Distruggere Cioè devi Distruggere E poi devi farlo Con la mente più fredda possibile Perché comunque In un match Cioè i fighter più bravi In realtà Hanno tutta una serie di skill Ma poi Devi riuscire ad adattarti Al tuo avversario Durante la preparazione Quando ti prepari E poi Addirittura durante il match Fare degli aggiustamenti tali Da riuscire Anche ad incasinarlo mentalmente E per fare una cosa del genere Ci vuole Tanta freddezza mentale Anche sotto stress Durante È una guerra anche psicologica Recentemente ho visto Un lotatore Di cui non ricordo il nome Che ha questa peculiarità Che parla con gli avversari Mi sa che ci ho fatto Io Kevin Holland Non si fermava mai Di parlare Praticamente C'è questo Gli danno i pugni E fa Buon pugno Buon pugno Vai Pezzo di merda Vai vai E ti continua a parlare Durante tutto il match Che io dico Come cazzo Fai ad avere il fiato Per parlare Non c'è Nel senso Sì sì Mi avevo preparato Anche questa cosa qua Ma poi durante gli spari Cioè È psicologico È tanto psicologico Ogni momento del combattimento Ha un momento psicologico È certo Cioè anche un colpo dato Se l'altro lo incassa bene Può quasi Cioè al di là Della scorecard Che poi vabbè Un pugno dato Sì se tu lo incassi bene Psicologicamente Disbatti il tuo avversario E viceversa Per assurdo Se vai vicino Magari a finire A finire un avversario Poi questo si prende Magari l'altro Si accotto Per provare a finirlo Può girare le carte Se l'altro poi Magari molla Un attimo il colpo Quindi c'è È stra psicologico Poi nel pre match Nella preparazione Anche poi Escono interviste Cavolate Comunque durante la fight week Magari ti vedi spesso Con l'avversario Certo Certo È chiaro Quindi Non farsi prendere Anche dalla rabbia vera Durante Cioè se io ricevessi Un bel calcio in pancia Fatto bene Oltre a dover fingere E fingere che non fa male Non incazzarmi Mantenere la calma E dire adesso Misuro bene Un colpo Però invece Io mi farei prendere Cioè non ci vedrei più Ma ti è mai capitato Di vedere un incontro Perché io È la prima cosa Che mi viene da fare Però in realtà Sono andato Sul ring recentemente E ho capito Che cambiano molto le cose Però inizialmente Cioè tu hai mai visto Un incontro di uno Che prende un colpo E per il dolore Si ferma È raro Succede però Succede Magari negli sparring Oppure Cioè negli sparring Sì succede Succede Un blocco su un calcio E quello Sente lo stinco Che se ne va E dice Cazzo mi fermo Però più negli sparring Nel match Succede anche nei match Però A livelli alti Alti Devi sopportare il dolore Diffico Mi ci trovo Col dolore Col sacrificio E quindi so cosa vuol dire Allo stesso tempo Non ho paura Di andare in quei posti Anche della testa Dove Diciamo Dark mode Cioè dove dici Cazzo adesso Cioè questa cosa farà male Quindi ho paura di farla No non è così Per me Anche se comunque Delle volte Se si può evitare Meglio Soprattutto poi Anche durante la preparazione Conoscendoti Delle volte Cioè noi Noi fighter Parlo per me stesso Cioè devo uscire Da quel loop In cui Se non Se non fa quasi male Quasi sembra Che non abbia dato tutto Ma non è sempre così Nel senso che Delle volte Bisogna anche essere Cioè lavorare duramente Sì ma anche intelligentemente Cioè se Se ho un match Da là Due settimane Posso anche evitare Di fare uno sparring Allo sfinimento Dove magari Risco di farmi male Solo per un discorso Di ego personale Perché magari C'ho davanti uno Che è un po' deficiente Col tempo Con l'esperienza Devi anche capire Ste cose qua Magari 5-6 anni fa Me ne fottevo E magari Entravo in un match Che c'avevo Cosa rotte Cioè Ossa rotte Mi è successo Di fare dei match Con dita dei piedi rotte Lo sterno rotto E Non bene No Perché comunque Nell'allenamento Magari Entri in quel loop Nel mod lottatore Vero proprio Quanti anni hai tu? 29 29 Che per l'età media Di un fighter UFC Sei considerato Giovane Mezza età Giovane Mezza età Diciamo che comunque Fino ai 35 Sei ancora Cabib A che età Sei ritirato Cabib Abbastanza giovane Sì Però appunto Per abbastanza giovane 35 35 35 35 Ti posso fare la domanda Delle domande? Cioè Il fighter più forte Della storia Ti l'avranno chiesto Mille persone Però io Sono fan Quindi Della storia Anche perché Ha un talento Non so Come dire Cioè Non per Non per l'esterno Per quello che ha fatto All'esterno Perché è molto più Controverso Come personaggio Però John Jones Penso che sia Inarrivabile Diciamo Ah John Jones Più di Cabib Sì John Jones Entrava Distruggeva gli avversari Fino Fino a poi Beh gli ultimi tempi Ha un po' cambiato Stile Però non ha una carriera Cioè Se io penso alla carriera Perfetta La carriera perfetta Io penso a Cabib No no Sì beh Cabib Nient'altro che rispetto Per Cabib Diciamo Però c'è John Jones Fino a Fino a quando Poi aveva battuto Diciamo Cioè John Jones Aveva tutti i migliori In un Come si dice In un Spectacular fashion Come dicono Lì Li massacrava Li lasciava Cioè Morti Senza Cioè O K.O. Oppure Un falciliatore Anche perché Si tratta effettivamente Di uno spettacolo Cioè Alla fine Oltre a essere La vittoria Quello che fa Un grosso fighter Deve essere anche Quanto riesce A intrattenere un pubblico Un po' per Per il bene Della federazione Penso Perché la UFC Vedo che Necessita Come tutti I big player Di questi sport Di attirare occhi Si è entrattenimento E beh Infatti Il fighter Magari più Forte Spesso è quello Che Ma magari Non è quello No Infatti È l'unico sport Secondo me In cui Il player Più forte Cioè Il player Più famoso Non corrisponde A quello più forte Perché se tu pensi Tutti conoscono McGregor Però oggettivamente Non è il fighter Più forte No Però per un periodo Per un periodo Lui ha fatto Le scalate C'è stato un connubio Tra Carisma Shit talking E pure Poi performare Una serie di cinture Certo Che per un paio d'anni Era veramente Re indiscusso Poi dopo Si è un po' perso Però Effettivamente Il fighter più famoso Di questo sport Non corrisponde Al fighter più forte Cioè attualmente Però succede anche Negli altri sport Magari Dici Sì C'è quello che magari È più Cioè Anche nella box Per dire Dici Sì Ah no Sì sì Il più carismatico Diventa il più iconico Però sì Succede spesso Succede Sì Negli sport Del fighting Magari succede Sì Succede un po' di più Ho una domanda per te Che ho fatto a un mio amico Durante il capodanno Non so Che parlavamo di fighting Tu preferiresti avere Una carriera Io faccio la distinzione Tra la carriera Conor Cioè la carriera McGregor E la carriera Khabib Quindi da una parte hai Avere 200 milioni Di dollari in banca E finire però come McGregor Cioè Un po' Un po' così Con una gamba ronta No Non un finale di carriera Da leggenda Diciamo Oppure essere Khabib Che hai Al posto che 200 milioni Ne avrai 60 Ma sei Una fottuta leggenda Che rimarrà nella storia Quale tipo di carriera Sceglieresti? Messa così Ha detto che tutte e due Vanno bene Detta così ovviamente Khabib Ma Però sono proprio cose diverse Cioè comunque noi da europei Cioè Vivermela come Khabib Eppure io sono uno Maniaco dell'allenamento Super disciplinato Eccetera No però Cioè lui Cresce in un certo modo Che per noi Italiani Cresciuti in un altro modo È praticamente insostenibile Sì sì Il tipo lottava con gli orsi Ti immagini che fai 2-3 milioni E non esci neanche la sera E torni a casa Che poi alla fine appunto Non è che c'è giusto o sbagliato C'è Lo stile di vita Chi la intende in un modo E chi la intende in un altro Lo stile di vita John Jones era il più pazzo Che lui Pensa a te sta roba Lui la settimana prima Faceva una festa Cioè andava a far festa Fino a che Andava proprio Cioè black out completo In coma Dove Dove Pippava fino alla morte Lo dice proprio Perché così La settimana dopo Quando combatteva Se avesse dovuto perdere Se avesse perso Non faceva la festa No 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 Lui poteva Poteva dare la colpa Alla Poi andava su In realtà comunque E massacrava gli avversari Non dava il massimo massimo Perché non voleva rimanerci Troppo male Nel caso di No Però poi andava su Quindi tu dici Giustamente dici Cioè io preferisco Divertirmi nella vita Che diventare una leggenda E fare una vita di merda Ci deve essere un balan Ci deve essere Sì ho capito Vivermela come Khabib Mi verrebbe È un mindset Difficile Ma dipende esatto Da come sei fatto Cioè non è Dipende da come Cioè da come cresci Insomma da tante cose Sì E tu vieni Dal nostro bel paese E adesso però Stai Movendo Cioè l'hai detto prima Off camera Senza Parlo troppo Degli Stati Uniti Ma Ti stai trasferendo A Vegas Quindi Dove sarai molto più Focalizzato Sul No ma io già sono da anni Io sono da 5 anni Ormai lì in California Orange County Subito sotto Los Angeles Però ti avvicini ancora di più Per l'esattezza Sì No beh Cambio palestra Cioè prima ero lì In una palestra D'Antington Beach Mi muovevo tra Orange County E Los Angeles Comunque andavo anche spesso A Los Angeles Per Per allenarmi di Di lotta Oppure di box Eccetera Però stavo D'Antington Beach E adesso Cambiando palestra Mi trasferirò A Las Vegas Quindi Vado la fisso E Quindi c'è un cambio Cavoli E sei gasato In andare a vivere A Las Vegas Sì no beh Sicuramente è un nuovo Parte che appunto Las Vegas la conosco bene Ho combattuto tante volte Poi La casa della UFC È anche un po' a Vegas Non so se l'hai sentito Stando là magari Il Performance Institute È una palestra grossa Che hanno fatto Dove tanti fighter Vanno là Insomma E lì ci sono tutti I trattamenti possibili Insomma c'è Ti alleni da paura Sì Però vivere a Vegas Madonna che paura Raga Io quattro giorni Erano già troppi Viverci Vivere le ragazze Mi hanno fatto riodiare Cioè riodiare Non li ho mai odiati Ma mi ha proprio Mi ha proprio Stato sul cazzo Las Vegas Ti posso raccontare Stato dieci giorni Un overdose La cosa che mi è stata Più sul cazzo Cosa Tu lo sai cosa mi è stato L'aria condizionata No Quando mi hanno sgridato Nella hall Ah sì Cioè praticamente Scusami Hotel Sette mila stelle lusso Io ho pagato Mi siedo nella hall Mi sdraio E chiudo gli occhi Così Viene un tipo E mi fa Non puoi tenere gli occhi chiusi Scusa Nella hall dell'hotel Ma seduto sul divano Seduto sul divano Ma con gli occhi chiusi Si vive un controllo A cui non siamo abituati Lì hanno delle regole Le fa rispettare Cosa che noi non abbiamo Più che altro Perché lì gli hotel Cioè Las Vegas La strip È tutta hotel Quindi c'è lì Non è Cioè lì dove c'è il casino Tutti i bar eccetera È praticamente la loro È la loro piazza tipo Sì Certo La policy è quella Di non dormire in piazza Praticamente Capito Sì Chiaro Però sì Capisco Però che rotture di cazzo No però è indicativo Di come negli Stati Uniti Siano così Un po' Madonna Sì Gli Stati Uniti Allo stesso posto Dove quello è entrato Per due mesi Ha portato Dei gunshot Sparato dal balcone Cioè quindi voglio dire Perché non gli hanno permesso Di dormire Infatti c'è Credo a Las Vegas Uno dei negozi Più inquietanti Che io abbia mai visto In vita mia Tu lo conoscerai Il posto dove ti fanno sparare Ti fanno andare anche Puoi scegliere tra Andare su un Un carro armato E sparare Hai presente il negozio Sì sì ma io c'è tipo Una foto con una pistola Che tipo da là all'aria Ma raga ma Ma a me non è Non mi fa paura Tanto che questi sparino Ok Ma i gadget che avevano C'avevano un gadget Che ho scritto Decidi da che parte stare Gun Cioè proprietario Di una pistola O vittima Perché lì Perché lì c'è tutta una discussione Che va avanti Da decenni Che Sul gun control Che tipo C'è Quelli che vogliono le pistole Più Republican Quegli altri magari Se non le vogliono Per tutta una serie di cose Tu hai la pistola E lei A Las Vegas Se non sei cittadino Non la puoi avere legalmente Ah no? Quindi in casa Non la posso dire comunque Ok Quindi non ce l'hai Tu ce ne hai due di pistole Sì dai Un'arma bianca no? Sì Sta cosa la sento da sempre Esiste È una cagata No è una cagata Sicuramente Se fai casino Vai C'è un aggravante Come se magari Sì Professionista di botte Mi è nato uno con la mazza Per dire Probabilmente Però adesso vai lì Cioè sei già negli Stati Uniti Da un po' E ti trasferisci definitivamente A Vegas Beh stai Stai Più hai la possibilità Di far sparring Con persone migliori Probabilmente migliori Più possono migliorare La performance Comunque appunto Vegas e poi ti trasferisci là Non è Cioè non stai sulla strip Sì magari vai per cena Però Vegas in realtà È anche Noiosa Per un certo senso Minchia È noiosissima Puoi costruirvi una routine umana A viverci Cazzo È devastante La cosa buona È che Ti concentri solo sul lavoro No è concentrata E c'è meno traffico E lei Minchia Per fare un po' Per tutto Capito Tutto è un'ora Cioè vivevo in macchina Tra Orange County Cosa se beccavo L'orario sbagliato Facevo Sì Pendolare Facevo il pendolare E non hai paura Di dimenticarti Da dove vieni Dall'Italia No No perché anzi A me quasi scazza Che c'è Parlo troppo bene L'inglese No oddio no Però No no Non mi posso dimenticare Da dove vengo Alla fine Comunque in Italia Torno sempre Tre quattro volte all'anno Ma poi io torno Proprio sempre Io sono trentino Torno proprio su A casa mia Mezzo corona Cioè mi piace stare a casa Quindi No E poi Anche come vita Dopo la mia carriera Penso che in qualche modo Cercherò di Di tornare in Italia Ma poi chissà Cosa succederà Di aprire una tua palestra Sì vediamo Vediamo Portare alla UFC Fare qualche Deal con Dana Com'è Dana? Com'è? Hai visto che ho appena uscito il video Che tirava schiaffi alla moglie? No Non l'hai visto? Cazzo Tipo New Year's Eve Era a Cabo In Messico No sai cos'è? Io ho più un bel rapporto Con Vabbè non che con Dana Non abbia un bel rapporto Ma a parte che Vabbè non potresti dirlo Anche se fosse No no però Cioè Quando lo vedo Ci parlo Ciao ciao Sì no Oddio è il mio boss Capito? E beh certo Ciao ciao Però i Fertita invece Li sono più Cioè Ho più rapporto con loro I Fertita Fertita's Brothers Sono quelli che diciamo Hanno portato La UFC Ad essere quello che è Chiaro Da quando l'hanno comprata Nel 93 A quando l'hanno venduta Adesso 3-4 anni fa Sono loro che l'hanno creata L'hanno resa grande E sono di Vegas E sono degli italiani Italo-americani Seconda a terza generazione Domanda spot così Scusami Cosa ne pensi di Paddy Pimblett? Eh Fuffa Cioè nel senso No Beh sì cazzo Dai io Non mi dire così Che mi sono guadagnato Anche il centimetro Che non c'era da guadagnare Ma minchia Ma sta vincendo tutto Ti ho capito Ma lì sta andando dei match L'ultimo match Non l'ha vinto minchia L'ultimo match come è andato? Ah sì il pubblico Il pubblico Non gliel'ha dato No no Cioè Tutti dicono Palesemente hanno rubato All'altro tipo No poi ha fatto anche Delle uscite sull'italiano Ancora tempo fa Paddy Che cazzo ha detto su di noi? Era il mio preferito raga Perché sai per cosa Mi fa ridere I capelli a taglio A parte che sembrano Serial killer Ma mi fa morire Dopo che vince l'incontro Che fa dei balletti Tipo così Fa tutti dei balletti Che raga Mi fa volare Potrebbe essere tipo Il Jeffrey Dahmer Di Liverpool Esatto Esatto Lui conquistò il pubblico Con quel discorso post Sul suicidio Bello Bello Quello bel discorso Ma ora è diventato Nell'ultimo mese Visto dei video che dicono È diventato Odiatissimo Poi c'è da dire questo Qualsiasi fighter Che viene dal United Kingdom Cioè dall'Inghilterra Appena c'è un po' di Cioè che è un po' forte Lo spingono di brutto Perché là è un mondo Dove il fighting È seguito tanto È seguito tanto È un buon business Anche a livello di Esatto Di pay per view Così Cioè gli inglesi Comprano Cazzo io ero fan Basta non devo più essere fan No vabbè Scegli tu Poi comunque c'è per dire Mi sembrava anche forte Sì però per dire Nella top 15 Ce ne sono almeno 7-8 Che non lo possono Cioè Se lo matchano con loro Butta giù Cioè la La 155 La lightweight I pesi leggeri Che è il più forte Di quella divisione Era quello dove c'era Khabib E adesso c'è Makachev Ma è la divisione Beh dai Ma è un Makachev Pimblet Ma dai Ma se è solo per il divertimento Di vederlo morto per terra Ok vabbè Allora sì Allora è bellissimo Cioè Allora va bene Ma sì Mi diverte quello E Sean O'Malley Ti piace? A me piace Ti dico già Sono i più Sono quelli più In high Diciamo Quelli un po' più Ma perché A me piacciono quelli Che sono un po' Lo show Sono un po' virtuosi Se serve lo show Sean O'Malley Magari non è forte Ma è bello da vedere Sean O'Malley Comunque ha dimostrato Già molto di più Di 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 Paddy Pimblet Beh a me che ha fatto Quell'uscita Io poi sono uno Abbastanza Quadrato Quadrato Se mi fai delle cose Poi ti metto Dalla parte Cosa che disse Sugli italiani Scusa Ho detto qualcosa Sul covid Che vabbè Perché tipo fa In Italia Vivono tutti Nella stessa casa Anche con Con gli anziani E per quello Che ne sono morti Tanti Una cosa leggera Allora innanzitutto Diciamo A Paddy Pimblet Non ce l'hanno il bidet Vero In Irlanda No Non avete il bidet Quindi non avete Direttore C'è da nessun'altra parte Che in Italia A Vegas Fatti installare Un bidet No beh Sì Ne parlavamo forse Con anche Chi? Abbiamo avuto Fighter qui Non gli UFC Un italiano Stefano Paternò Stefano Paternò Parlavamo Di quanto deve essere Show Quanto 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 uno Non voglia A volte fare Trash talking Però Aiuta Capito A vendere Pay per view Poi non so Come funzionino Le cose E quanto A te interessa Questo aspetto Di trash talking Beh io l'ho sempre fatto Ah ecco Aspetta Quello volevo dire Che Sean O'Malley Ha fatto quell'uscita Che poi girava con 6ix9ine Si è pure tatuato 6ix9ine Allora ho detto Cazzo dai Io l'ho sentito Un po' di volte Anche Sean O'Malley Perché eravamo In una situazione simile Un po' di tempo fa Per via di altre cose Vabbè Poi dopo Ho fatto queste uscite Un po' così Un po' babbo Sì Un po' babbo di minchia Sì Un po' che Boh Che cazzo Le fai a fare Certe cose Sei un po' babbo di minchia Eh sì Sempre Se non trash talking Fare i pagliacci Fare un po' il pirlone A te A te E no Per il trash talking È il discorso Del trash talking Ma Cioè come abbiamo detto prima Non tutto il trash talking È un po' il trash talking Nel senso che Delle volte Anche quando ti rapporti Con il tuo avversario Cioè puoi dire delle cose Che Fanno Cioè creano Delle situazioni Un po' Scomode Anche in testa No? Quindi delle volte Dire delle cose Può anche essere Una mossa psicologica Una strategia Certo Poi dopo Certi quando Forzano troppo Un personaggio Diventano anche cringe No? Eh cioè Guarda McGregor Contro Khabib A mio parere Era cringissimo McGregor Sì però McGregor Boh In qualche modo Ce la fa sempre stare Come Boh Sembra sincero Quindi dici Ci sta Se hai sentito Sì sì Poi dopo è cringe Se lo vedi In un altro Da un certo punto di vista Perché è esagerato È troppo forzato Insultare la religione Il paese di uno Cioè quelle robe lì Minchia No però ci sono certi Che proprio dici Solo a guardarli Neanche quello che dice Proprio è strano Come lo Certo Come si comportano Per dire Colby Calvington Sì Lui fa fatica A guardarlo delle volte Quando Poi anche lui Perché Ma no Anche lui è più Per quello che dice Per più che Per come lo fa Ma poi Adesso non mi viene Voi fate Delle conferenze stampa Dove siete in tanti A volte Giusto Che cazzo è quella roba lì Che ogni tanto vedo È una promotion Per gli eventi grossi Per gli eventi futuri Cioè se tu combatti In una promotion Tutti quelli Di quella promotion Fanno una conferenza stampa Insieme No no È una promozione Per Cioè uno spinge Ah è una conferenza stampa Una conferenza stampa Per gli eventi futuri Per i match più grossi Quindi non è detto neanche Che tu combatti Nell'evento futuro Cioè ci vai No 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 Sì tu metti Che ci mettono a combattere E combattiamo Tra tre mesi Sì Tra un mese Fanno la press conference E ci mettono anche noi Siamo due personaggi importanti Che ti fanno Interessare magari Come discutiamo Quando ci mettono faccia a faccia E quindi chiamano tutti Magari i match più grossi Che ci saranno Nei prossimi due Tre quattro mesi E cercano di creare Drama Diciamo Che alla fine Drama Sells E beh certo Who the fuck is that guy Eh sì Da presente McGregor Who the fuck is that guy Bellissimo Si è inserito Bellissimo Ma Ti volevo chiedere Una cosa Sempre inerente a questa cosa Che dicevo Ma mi sono dimenticato Faccio una piccola presentazioncina Al volo Ho preparato Due tre slide Giusto per Marvin Vettori Arte marziale misto Mi fa ridere che si dica così Arte marziale misto Artista Artista marziale misto Artista marziale misto È un artista È un'arte E che è di Italian Dream Il sogno italiano Che io In un mio video Recentemente Ho detto Non c'è il sogno italiano E mi hanno detto No in realtà C'è Cioè Lei sei tu E qui un po' di facts Oh Non sapevo Record 18-6-1 Che cazzo vuol dire 18 vittorie 6 sconfitte E un draw Che comunque È un bel record Quella era una gif Ah ecco Cosa significa Vincere Per te Vincere vuol dire Che diciamo Progredisci nel tuo percorso Arrivi a Arrivi al tuo obiettivo Comunque ci hai messo Anima e corpo Durante tutta la tua Carriera sportiva Ma soprattutto Anche negli ultimi 3-4 mesi di preparazione Oltre che dar soddisfazione A te stesso La dai anche A chi è attorno a te E niente Poi Un giorno puoi Tranquillizzarti E dire Sono arrivato A fare lo step successivo E poi dopo pensi Già a quello dopo La fine Perché comunque Cioè vincere Vuol dire Sabbattuto Nello sport che faccio io E diciamo Salire di un gradino O due o tre E continuare A continuare Sul tuo percorso Ok E poi la seconda È simile Cosa significa Perdere Per te Perdere vuol dire Che bisogna imparare Bisogna cambiare qualcosa Bisogna analizzare Cosa è andato storto E accettare Che poi Per dire Io nella mia testa Io non sono mai stato finito Nei match Quindi ho sempre perso Per decisione Anche tante decisioni Sono sempre state molto Quindi mai knock out Sotto missione Mai E incassi bene È che è la tua particolarità Che incassi Una delle mie Cioè io Ho visto delle interviste Di Adesania Che diceva Minchia Buttarlo giù È proprio difficile Ci fu tutto Ma perché Cioè per me È quella che è la mascella Di titanio Sì però appunto Ma però è anche mentale No come abbiamo detto prima Qualsiasi cosa che sia fisica Anche mentale Quindi Però è più fisica Cioè il fatto che Non vai No perché Se vuoi Vedi tanti match Dove Di testa uno Fa il check out Diciamo Non c'è più di testa Non è più sul pezzo Sì E trova un modo Di Di farsi finire Tra virgolette Certo Cioè molla A livello mentale E poi lo trova Anche a livello fisico Ma se la testa è sempre Là sul pezzo È difficile È difficile Mettere capo sotto Mettere Però ci sono dei match Dove proprio ti va di sfiga Ci sono L'ultimo Che ha perso la cintura Che ha preso un calcio Ah lì sì è vero Lì assolutamente Cioè minchia Lì Usman 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 Cioè praticamente Questo qua campione Fortissimo oggettivamente Contro uno Forte Minchia Ha tenuto la guardia bassa Per un secondo Gli è arrivato un calcio In faccia A un minuto Della fine del quinto round No assolutamente Però l'aspetto mentale È importantissimo Quindi io Cioè io Ho preso Non so se l'hai visto Quel match Con Costa Ho preso anche io Un calcio Pieno Pieno Che poi lui Era dieci chili Più pesante di me Sì 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 E io mi ricordo In quell'attimo Che mi sono detto You're not going out Cioè dicevo Non devi Non molli Cioè devi star qua Non te ne vai Non vai da nessuna parte Dai il massimo Sì non solo Dai il massimo Sei lì Cioè ti rifiuti Di andare giù Capito Devi rifiutarti Di andare giù Devi rifiutarti Di perdere In quel momento là In generale E quindi No quindi Non mi ha mai finito Anche perché io la vedo Tanti Magari Ognuno c'è il suo modo Di intendere il combattimento Io lo intendo Come Cioè È la cosa più primordiale Che esiste Alla fine del combattimento Da quando c'è l'uomo Esiste Anche per Per sedermi Piuttosto In un posto Piuttosto che in un altro Per mangiare qualcosa Piuttosto che Qualcos'altro Addirittura Sopra anche un pezzo di cibo Quando non ce n'era E quindi Voglio dire Per me Essere finito È come se dovessi morire È come se fossi morto Per un secondo E quindi Cioè Vendocare la pelle Magari ho perso Ma ho perso Per decisione Nulla toglie Che se anche perdi Per decisione Delle volte Ma anche nella vittoria Questo Devi analizzare Anzi Io sono Penso che questa sia Una delle mie Delle cose buone Che ho Che anche Anche se vinco In realtà Analizzo Quello che è andato Giusto o sbagliato Cioè proprio Ti metti lì Computer Carta pena Certo Guardare Sì Riguardo il match E poi vabbè Già dopo Hai delle sensazioni Subito dopo il match E capisci quello che Hai fatto bene o male Però A maggior ragione Quando perdi Cioè Ogni esperienza È legata Delle emozioni in testa Se perdi L'emozione È forte Quindi Devi fare degli aggiustamenti Tu adesso Quanti incontri fai all'anno? Dipende Appunto dipende anche Dalla Dal matchmaking Poi In sto sport qua Tante volte Magari la gente Si fa male Ti rimandano i match È una rotola di cazzo Quindi per dire 2021 Ho combattuto Quattro volte Quattro volte L'anno scorso Ho combattuto una Quest'anno qua Spero di Combattere spesso Tre Tre volte Non sai ancora Se ti hanno assegnato No no Ce l'ho un match Adesso Ce l'hai un match Contro 18 marzo A Londra Contro uno Che Tra il resto Conosco Mi sono anche allenato Un giorgiano Che è un po' È un po' Atipico come Come fighter Nel senso che Non è completissimo Però fa un paio di cose Molto bene È forte a terra Sì è forte a terra Però è forte Schiena a terra Che è una cosa Cioè sotto Ah cazzo Quindi quando è in difesa Sì quando è in difesa Che è una cosa Che nell'MMA Non si vede Cioè di solito Quando sei Nell'MMA Il principio È sempre di star sopra Come si chiama Quando sei sopra? Grand Mound Grand Mound Grand Mound Quando sei Con le ginocchia Sopra il tipo Sì Cioè con tutte le gambe Sopra il tipo E beh E tu Quindi Come si chiama Il ragazzo Grand Mound È quando sei con le ginocchia Grand Mound Vuol dire Ground Quindi se a terra Pound Vuol dire Che lo pigli Quindi Grand Mound Vuol dire Menare da sopra Top position Cigi Quando sei sopra Tu sei sotto E il tipo è forte Quando è in quella posizione Di merda lì No quando è sotto Quando è sotto Lui va le gambe Lui fa tutte le le gambe Lui ranking Cos'è? Adesso è numero 8 Quindi per te Non un grande incontro Cioè preferivi uno Di ranking più alto No sì Però dipende Perché anche a livello Cioè Gli ultimi Gli ultimi Miei 2-3 match Ho sempre combattuto Con gente davanti Adesso ci sta Che faccio anche Prendo un po' Il giro lungo Tanto comunque Difendi la posizione Sì Difendo la posizione Tanto comunque adesso Un incontro per il titolo È un po' È difficile È un po' difficile Soprattutto anche con questo Con questo nuovo campione qua Insomma Andrà via un po' di tempo Prima che mi fanno fare Un altro match Per il titolo E quindi adesso Perché è il nuovo campione? Perera Perera? Ah cazzo Beh è tutta desaglia Me l'ho tosto In piedi Cioè È assurdo Perché io adesso Se facessi con Perera Sono stra confident Che vincerei Ah sì? Sì Perché lui Gli manca tanto a terra Ah ah Ma anche con adesagna Adesso questa Poi magari mi diranno Mi diranno su questa cosa qua Ma Sono migliorato tanto Anche adesso Sullo striking Però il tipo è forte Adesagna? È il tipo Con le gambe Con le gambe è forte Sì sì No no È forte con le gambe È molto elusivo Lui riesce proprio Ad essere freddissimo Durante il match Si vede Cioè per lui è quasi un gioco Capito? Lui la vede così Si vede Si vede E c'è tanta esperienza E quindi È molto calcolato Se dovessi scegliere Match con adesagna Beh adesso che è il campione Perera Farei il match con perera Perera Per orgoglio Non la faresti con adesagna Oddio Se dovessi scegliere Il mio ultimo match della vita Lo farei con adesagna Lo faresti con adesagna Però adesso come adesso Non c'è Sarai scemo Se dicessi adesagna Perché Vabbè certo Poi tanto da campione Da campione Tutti ti cercano Cioè da campione Poi decidi tu Certo E invece Fuori dal ring Tutta la preparazione Ti è scomoda L'alimentazione Quante volte ti alleni Poi a settimana? No mi alleno due volte al giorno Tutti i giorni Delle volte anche tre Poi la domenica Magari ti riposi un po' Però sì Due volte al giorno Diciamo la media E poi No no A me allenarmi Mi piace tanto Poi dopo ci sono cose Che magari sono un po' più Noiose Ovviamente Quando fai Degli allenamenti Di kart Dove vai proprio Allo sfinimento Che devi Fai i scatti O roba così Magari è un po' noioso Ti girano le scatte Certo Non è la roba Non è la roba più grande Però Lottare Far sparring Anche drillare Mi piace Come splitti L'allenamento Cioè in cosa consistono Cioè quanta forza E quanto Quanto sparring Dipende Dipende anche tanto Dall'avversario Che hai E Se poi Cioè Una volta facevo Magari più Magari facevo Due volte lotta a terra Poi facevo Cioè splittavo Quasi Equalmente La La settimana Invece adesso Faccio più periodi Magari faccio tipo Due settimane Di Striking Quindi mi concentro Magari Sullo striking In piedi E poi magari Adesso Oppure E poi dopo Magari faccio Due settimane Solo di lotta Secondo me A livello mentale Resta di più Ma anche perché Giustamente Cambia l'allenamento In base all'avversario E beh certo E poi La preparazione Dipende Anche lì Periodizzi In base a Quanto lontano Sei dal match Magari sei più lontano Fai più fondo Più forza Poi più vicino Fai roba più Più esplosiva Perché Però poi Anche là Con l'esperienza Dopo veramente Tanti anni Ti devi gestire Da solo Con il coach Eccetera Trovare Il modo Che più Faccia bene a te Come atleta Non c'è una regola La vera e propria Secondo me E non ti capita mai Di non aver voglia Di alzarti dal letto E di andare a allenarti Sicuro Però È lì il coach Che entra in gioco O non è il suo ruolo No Se non hai la testa tu Esatto Lì subentra La disciplina Che hai sviluppato Negli anni Non c'è altro Quanto conta il talento E quanto conta la testa Secondo te Tutto testa Tutto testa Perché Non è dall'oggi al domani Che crei qualcosa Grande abbastanza Per arrivare a livelli alti È dall'oggi A dieci anni A dodici A quindici Magari Cioè io faccio sto sport Da quando ne ho quindici Praticamente Ne ho ventinove Quindi È tutto testa E Il talento lo vedi Nel mentre Quando magari Ti accorgi che Allenandoti Anche Allenandoti tanto Quanto ci allenano gli altri Su qualcosa Tu hai quella Mezza marcia in più Magari Oppure tu apprendi Un qualcosa Un pochino più velocemente Sì Hai una caratteristica Che è più forte Rispetto ad altri Può essere addirittura Un'arma a doppio taglio Il talento Perché se ti bagli sul talento Già dal medio Alto livello in poi Senza la testa Non vai da nessuna parte Prendi proprio nel culo Eh certo Avevo un'altra domanda Cosa ne pensi Tu credo Tu abbia sfidato Logan Paul Sì No Jake Paul Avevo Jake Paul Cosa ne pensi Di questi incontri Organizzati da loro Loro sono veramente Dei geni dell'entertainment Secondo me Sono molto Cioè Lo capiscono molto bene E Adesso voglio dire Jake Ci sta Piano piano Sta anche Diventando Un atleta Ci sta Decente Sì decente Nel senso che comunque Si sta applicando Adesso sono 5-6 anni Che continua Questa storia Ma tutto Anderson Silva Ecco Anderson Silva Ha 50 anni Sì 50 anni In UFC È uscito Perché Erano 3-4 match Che perdeva Malissimo Poi è una leggenda Secondo me È un altro Dei GOAT Top 1-2-3 GOAT Più spettacolari Di tutti Sicuramente John Jones Anderson Silva Cabib Li metto lì Voglio dire Quindi massimo rispetto Però è uscito Dalla UFC E ha perso Con gente Che poi addirittura È stata tagliata Dalla UFC Quindi Non era neanche Non che non era più Un suo primer Però sai cos'è Tre livelli sotto Il nome però Certo ma è lì La bravura Le vendite Che poi anche Quel match lì Non so chi aveva vinto Però comunque E no perché Poi vedi la gente Tu ci parli Però non li hanno guardati I match Io li vedo I match Si analizza Però tu una sfida Con Jake Paul La faresti Assolutamente sì Ma io so che Per via di contratti E cose che fanno Quello che ho Con la UFC Non potrei farci Non puoi Ma io l'avevo invitato A fare uno sparring Perché io so che Lui e lei Ci bazze Che io andavo sempre Ad allenarmi Là di box E c'era anche Qualche conoscenza In comune Dico vieni a far Sparring E non è venuta No non è mai venuta Ebbè vuol fare No ma per dire Per dire Per far capire i livelli Logan Paul Aveva fatto Il video Un video Che poi è andato virale Ma divertente Con quello Che poi io ho battuto Sul serie Che aveva fatto Quel video Dove è andato K.O. Con Paolo Costa Che poi Paolo Costa Quello che io ci ho combattuto Con 10 kg in più 10 kg in meno io Cioè Per dire Loro adesso Sono diventati Quello che sono Ma prima Facevano Cioè Si facevano piccolini Davanti a questo mondo qua Certo ovvio Certo Ma non Vedo che la community Dei fighter È super Super attiva Sui social Come se dovesse Su twitter Tantissimo Perché si cerca Un Un avversario Anche proprio Sui social Cerchi di scatenare Beh comunque C'è anche una componente Di intrattenimento Cioè Devi essere anche Un bravo intrattenitore Nel Nella Testa Devi essere anche bravo A cogliere le occasioni Ma a crearle Cioè Perché per avere Una title shot Non serve solo Essere bravo Devi anche magari Creare una storia Avere un personaggio Quindi C'è una componente Anche artistica Anche artistica Sono artistica Ma invece Capita mai Di essere amico Di qualcuno E doversi trovare Sul ring L'uno contro l'altro Amico amico No Nel senso che Ci sono stati casi Di amici amici Dove Non Dove poi dopo Il match Non è successo No Cioè Dopo dopo Non succedono A meno che magari Non siano proprio Per il titolo Perché comunque Lì vogliamo veramente Entrambi la stessa cosa E Alla fine Siamo abituati a combattere Anche tutti i giorni In palestra Voglio dire Non è la cosa più strana Combattere Anzi è una cosa Non dico normale Il match sarà sempre diverso Perché comunque Nel match Entri con una testa Più Con cattive intenzioni Però si può fare Però Se si può evitare Fino almeno al titolo Cioè per dire E la rispetto sta cosa Per dire Makachev e Khabib Hanno sempre Evitato Addirittura Anche per il titolo C'è stato un altro Tipo per dire C'era Raffaele Dosagno Con Benidariush Anche lì Hanno sempre evitato Fino al titolo Si sono Rispettati Prego E A me è successo Di Di parlare Con un altro mio amico Della divisione Per dire Una volta Con Sean Strickland Che è un altro Super controverso Tutto strano Pazzo Non so se l'hai visto In qualche No sai che mi banca È un altro top 10 E Della Della divisione Adesso ha perso Ma un match anche lì Parecchio tirato Con Cannonier Vabbè ci avevano proposto E abbiamo detto Vabbè allora O che ci strapagano O che non lo facciamo E poi alla fine Allora vabbè Fa niente Certo Un altro caso Per dire Anche questo Io lo conoscevo Mi ci sono anche allenato Poi lui Sai Ci sono Tra fighter Un attimo Perché poi Cioè tu La UFC Fa la proposta Lui accetta Allora io Della mia parte Dico Lui è accettato Io neanche posso Tirare Nel senso Si è accettato Lui Se non è un problema Per lui Allora non è un problema Neanche per me Certo E quindi Però è raro È raro Sì è raro È raro E poi Se sono veramente amici O addirittura O non combattono E rispetto a questa cosa Oppure Perlomeno Non combattono Fino alla title shot Chiaro Sì me l'avevo sempre chiesto Perché a me ti alleni Al vero con uno Un anno Siete in buoni rapporti Andate a cena E poi Spaccare la faccia Poi è tutto Tutto Cioè è tutto singolare Nel senso che Ci sono certi Che vedono tutto Come fight business Oppure entertainment Cioè li vedi In camera Sono delle persone E fuori sono delle altre Ci sono certi Che invece ci stanno sul cazzo Veramente Se per sbaglio Si beccano per strada Magari Si menano davvero Per quello succede Quindi è un po' tutto Discrezione Del singolo E beh certo Io credo che la fai Da per esempio Khabib McGregor Forse assolutamente vera Da parte di Khabib C'erano pure Dei procedimenti penali Si 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 È stata veramente vera E Khabib L'ha vissuta Veramente da Cioè come se Dovesse ucciderlo Ma si si Non scherzavano Infatti beh Ha fatto un bel show Comunque Religione Cose così Eh cazzo L'ha fatta pesante L'ha fatta veramente pesante Ehm Tu con che arte marziale Hai iniziato Ma io qua in Italia Io ho sempre voluto fare MMA Da quando ho cominciato Però poi mi sono reso conto Che non c'era Quindi io ho cominciato Praticamente con Con la kickboxing Kickboxing E poi ma Tempo di mesi Subito mi sono messo a fare lotta a terra Quindi Brazilian Jiu Jitsu Sì E poi dopo ho cominciato a fare lotta greco-romana Perché solo da mia parte non c'era la libera Quindi facevo lotta greco-romana E poi appunto facevo tutte assieme E cercavo in qualche modo di mettere tutto assieme da solo Si fanno degli stage Cioè quando un atleta forte si ritira Puoi andare da lui a fare un training day Cioè che ne so Anderson Silva che ti insegna qualcosa Kabib te ne insegna un'altra Queste leggende si fa Sì sì Si fanno Solo che Non è facile Comunque magari Sono atleti che magari chiedono Un certo tipo di cachet Ah devi pagarli Eh beh sì Ah non amicizia Io pensavo No beh magari Per rispetto Per passare il testimone No sì Però vabbè Magari insegnano in una palestra Allora tu vai nella loro palestra E ti alleni Non ti è mai capitato All'opportunità magari Di allenarti con uno di questi Ma Ma sì poi ci sono mille storie Nel senso che No beh ma io mi sono allenato Con tanta gente Che leggende del passato Oppure comunque Atleti Che sono considerati leggende Anche se continuavano a combattere Comunque lì dove ero Fabrizio Verdum Sugar Rua Wonder L'Essilio A cui sono tutta gente che Cioè Io anzi Io erano proprio i miei idoli E sono finito proprio anche Abbastanza casualmente Nella palestra In cui si allenavano loro E quindi Quindi sì Poi è comunque un mondo piccolo Per dire Tanti magari mi hanno sempre detto Perché non ti vai a allenare Con Cabib Eccetera E io con Cabib Non ho nient'altro che Cioè C'è solo rispetto per Cabib E anche per tutto il suo team Addirittura abbiamo lo stesso manager Sono amici fraterni Tra di loro Ma anche io sono Amico fratello E quindi abbiamo amici in comune Eccetera L'ho anche visto varie volte Ci siamo allenati Però Anzi no Non allenati Però Non ho mai voluto allenarmi Oppure andare nella sua palestra Perché c'è un compagno di squadra mio Che è proprio Sono tanto attaccato Che è un lightweight Che eventualmente avrebbe potuto fare Magari contro O che appunto adesso è tipo Il numero due O numero tre Ci può essere la possibilità Che possa fare Della title shot con Con Makachev Con loro E quindi Per rispetto Si offende No Non ci si mischia Vabbè ma io gli direi al tuo amico Dai cioè Non andare in sbatti Mi voglio allenare con Cabib Vaffanculo Dai no No Io avrei fatto così Cioè Fattore di No ci sta Ci sta Fattore spogliatoio Ci sta No 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 Ma non solo spogliatoio Comunque cioè Non è Non va a giocare a calcio Capito Ho capito perfettamente Cioè È come se fosse un tuo compagno di squadra E quando dicevamo Che è più uno sport Sembra quasi uno sport di squadra Anche perché potresti far spionaggio Cioè i team diventano quasi dei clan Certo Si è sentito tanto Capito E poi loro Cioè Loro soprattutto Sono tanto attaccati Certo Ma poi comunque Quando ti alleni E ti mini Con le persone Tutti i giorni Cioè Ci crea un certo tipo di rapporto Che Non si crea In altri modi Quindi Non ci ho neanche mai pensato È vero Io ho fatto recentemente Spar incontoni F E lo vedo in maniera diversa Mi ha massacrato di botte Rispetti di più O sei più incazzato? Credo innanzitutto Che lui rispetti di più me Perché ti sei Perché ho avuto il coraggio Di fare sparring con lui E io lo vedo con più rispetto Perché mi ha dato delle saccagnate Raga Adesso Lo temi un po' di più No In realtà Non lo temo Perché ho visto che incasso È stata la prima volta Tu ti ricordi La prima volta Che hai fatto sparring? Sì Cioè è strano No Forse Avevi 15 anni? Eh sì Sì infatti Avevo avuto 15 anni Però no Mi ricordo degli sparring Cioè il primo cazzotto forte in faccia Te lo ricordi Capisci che ti entra una freddezza in gioco Che il dolore Prima di sentirlo Ci vuole un po' Almeno Questa è stata la mia sensazione Non sei fatto di vetro Infatti Cioè quando la gente ti dice Ma tu gli hai un pugno Lo ammazzi Può succedere di tutto Puoi anche scivolare Battere la testa E morire camminando Sì Però Per ammazzare un essere umano Ce ne vuole Non è Adesso poi c'è l'essere umano Ecco Dove muoiono veramente Sono I colpi sbagliati dietro la testa No raga Quelli che fanno gli incontri Senza guantoni Ma che matti sono No in realtà Guarda che c'è un Li avevi visti Fa più senso che per le mani Ti spacchi le mani No ma è morta della gente raga Non lo so Sì no è morto uno Guarda sai che dicono Che nell'MMA È morto uno Qualche anno fa Qualche mese fa Mi sembra Forse un annetto fa Nei incontri Con le nocche Cioè tipo è morto Ma sai che in realtà Il fatto che i guantoni Della MMA Siano così duri Permette di buttare A KO uno Prima di fargli dei danni Sì sì certo Nella box Dicono che Martelli così tanto Perché a tutti c'è il colpo E il cervello Madonna Come nel rugby Madonna MMA in un certo senso Non lo so oggi Eh però Ha un senso Che vai al tappeto Prima di ricevere troppe botte Sì 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 capito Cioè vai K Però quando sei K E poi è più vario C'è anche la lotta Sì 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 Non per forza Vieni colpito in testa No Poi ci sono più modi Per evitare magari I colpi pesanti Poi però Vedi dei beat down Cioè dei match Dove c'è una Cioè che magari Sono a senso unico Dove uno viene Massacrato Che fai fatica a vedere Nella box Perché poi Ci sono certi che C'hanno dei menti Della madonna Sono anche io Che c'è E poi anche di testa Stanno là E si rifiutano Di andare giù Quindi tutto Sto insieme qua Che però magari Stanno perdendo un match Ma non vogliono Andare giù E prendono delle Cioè Prendono delle Delle botte A fine match Che cazzo Ma infatti Ti capita di avere Delle amnesie Post match Tipo la settimana dopo Come stai di testa No Fisicamente anche magari No ma sai che no Alla fine Easy No cioè nel senso Io incasso bene Ma so che comunque Non deve essere La mia prima linea Di difesa L'incassare Se la prendo La incasso Ma comunque Non dovrei Lavoro tanto Che sulla difesa Cioè Solo che ha un occhio Magari un po' inesperto Sembra che le prendo Perché vado spesso avanti Ma in realtà Tanti sono sempre deviati Bloccati Cioè pieni pieni Non è che Non li prendi Le prendo tanti Per dire Quindi c'è La tua forza Non è solo Incassare Ma anche che Hai una buona difesa Ma sì ma Parano anche le statistiche Poi dopo Senso Ognuno poi anche i media Così vogliono sempre Creare l'immagine Che vogliono Che vogliono Creare loro Ma Certo Cioè Ho una buona Una buona difesa Sicuramente E i commenti infatti Ti dà fastidio Quando leggi qualcuno Che commenta Senza sapere il lavoro Che ci metti E senza Conoscere Ma i commenti Che mi danno fastidio Sono pochi Perché appunto Cioè Cioè una volta Mi hanno detto Sta cosa qua Capito Mi hanno detto A un tuo amico Lo faresti entrare Se viene un tuo amico Stretto Lo fai entrare in casa tua Sì Se viene un tuo amico Che conosci così così Lo fai entrare in casa tua Faccio Sì magari Però non lo faccio Non lo faccio entrare in camera da letto Lo faccio magari Cioè Puoi entrare ma Insomma Le do un certo tipo di confidenza Una persona che non conosco Lo fai entrare in casa tua Faccio No perché Almeno che non si presenta Non mi chiede il motivo È un po' così No Cioè uno che non Capisce un cazzo Perché lo devo fare entrare Nella mia testa Non ha senso E quindi No Ci sono pochi commenti Che mi fanno girare il cazzo Perché quelli che mi fanno girare il cazzo Devo capire Che qualcosa ne capisce E poi Anzi Io sono anche abbastanza aperto Le critiche Se ha senso L'accetto anche Capito Quello che mi fanno girare il cazzo È proprio quello Che ne capisce un po' Ma dice una minchiata Che Potrebbe aver senso Ma che poi in realtà Non l'ha Ma che posso vedere Che tanti La possono prendere Per sensata C'è un'analisi Fatta a modo Però Sbagliata Annalisi sbagliata Magari Pretestuosa Meglio l'ignorante Dici che fa l'insulto Inutile Che non ha senso No quello non lo puoi prendere Però ecco Una roba che mi ha fatto Un po' perdere Quell'amore puro Che avevo Verso l'MMA È stato Quando dopo L'incontro titolato Mi hanno tirato Un sacco di merda E descrive Quale? Quando ho fatto Con Adesagna Cioè post match Anche tutti i media americani Mi hanno tirato Un sacco di merda Perché? Ma descrivevano una cosa Che non era il match E io ancora adesso Cioè ho quasi dovuto fare Cioè chiedermi se Sono pazzo o meno Perché descrivevano una cosa Come lo descrivevano il match? No Descrivevano il match Che era senso unico Descrivevano un match Dove lui era in totale controllo Che comunque è andato 50-45 E secondo me Non era per un cazzo così Nel senso che Ho sempre attaccato Cioè ho fatto una serie di cose Per il quale L'uno col cazzo Era in totale controllo Anzi se ho creato Qualche situazione Nel quale Ti devi autoconvincere Che sia così E non farti Sì devi essere sicuro Delle tue cose Capito? Ma un altro Cioè un altro Magari Si piglia male Si piglia male Pensa che tu sei pazzo E lì ho detto Cioè è un giochino di merda Che fanno i media E non Non devo lasciare Non ti devi far influenzare Non mi devo far influenzare Non devo lasciare Che mi entri nella testa Capito? E ho perso un po' Perché dici Cazzo comunque Tu Lì è l'apice Della tua carriera Sì Di 12-13 anni Di lavoro Di lavoro E loro Ci sputano addosso Così Su un verdetto Poi viene anche descritto In maniera Sbagliata Secondo me E quindi ho perso un po' Quell'amore puro Un po' Dimenti più cinico Esatto Come quando stai con una E per i primi anni La strami Poi ti fa una cazzata Magari sì L'ami comunque Ma l'ami in modo diverso Certo La vedi sotto un'altra luce Con un occhio più cinico Eh beh ma è giusto La vita ci insegna Ad essere cinici Lotta con i giornalisti Eh beh Eh beh Sì Perché il brutto è che Possono Possono far cambiare L'opinione al pubblico Eh beh Più che a te Capito Più che altro Per lui una title shot Magari ci mette più tempo Ad ottenerla Per come è stata fatta La narrazione Sì ma poi Alla fine Non mi dà neanche fastidio Quello Perché Non era il mio momento Me ne rendo conto Che quello l'anno Era il momento mio Di vincere Cioè io Nella mia vita Nella mia carriera In generale Non ho mai sculato Cioè Bene o male Non l'ho mai sculato Mi sono sempre guadagnato tutto E lì Cioè io devo Per battere un avversario Devo batterlo Dieci volte su dieci E magari in quella situazione L'avrei battuto Tre su dieci Quattro Oppure anche se fossero cinque Anche se fossero cinque su dieci Se la prendeva lui Non era sicuro E quindi La prossima volta Sono sicuro che Sarà quella buona Diciamo Però lo dico consapevolmente Non lo dico Con spocchia Perché me la sento Perché me la sento Ma è giusto Ma devi anche Cioè È un lavoro veramente Di Personal training Sì anche strategia Di training La lungo termine Infatti qual è il tuo prossimo obiettivo Nella tua carriera di MMA Io dico sempre che alla fine C'è il combattimento E la via del combattimento È un po' la via della vita Nel senso che secondo me Il mio obiettivo è quello Di diventare il fighter Migliore che io possa diventare Quindi al di là Delle cose sportive Il mio obiettivo è quello Di essere Il più forte possibile Sotto qualsiasi aspetto Come fighter Poi a livello sportivo Ovviamente Era sempre la title shot Arrivare a vincere Il titolo UFC Che non l'ha mai fatto nessuno In Italia Portare la UFC in Italia Però non ho più Quella fretta Che avevo prima Diciamo Farò il mio percorso E poi appunto Facciamo sempre l'errore Un pochino Di paragonarci Agli altri Di percorsi E cerco sempre Di non farlo più E io adesso So benissimo Diciamo Quali sono le mie capacità E Quello che posso fare E lo farò Insomma Passo per passo Adesso devo fare questo Farò degli altri Però diciamo C'è Un'esperienza L'esperienza che ho io Alla mia età Veramente pochissimi Possono dire di averla Perché ho fatto No Sei l'unico italiano Ad aver fatto Quello ho fatto veramente Con i più forti Cioè ho fatto con Costa Whittaker Adesagna E Hermans Insomma Tutti quelli che ho fatti Tutti i match che ho fatto Non ce n'è mai stato uno Che è stato Tutti forti Sì Forti E non c'è mai stata Una decisione Diciamo Con un secondo fine No faccio questo Per fare quest'altro No mi dai questo È forte Io mi voglio mettere Mi voglio testare Con i più forti Certo E questa è sempre stata La mia idea Quindi Il contrario di Paddy Pimblet E il contrario di Paddy Pimblet Se vai a vedere la mia carriera Proprio te ne puoi accorgere Se sei del 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 settore Che non c'è mai stato Un match Che è stato Diciamo Messo lì Accomodante Per te Accomodante Zero The Italian dream Io farei così Io se fossi un lottatore Solo scarsoni Ah Scarsoni Assicurati Diciamo Però farei uno show Della madonna Beh io ti dico E lo dico a tutti In tre anni Perché devo riprendermi Dall'operazione Ma voglio fare un incontro Contro qualcuno Cioè con qualcuno Box Contro Tendenzialmente box però Però volevo fare Tony F Ma sono troppo indietro Come peso? Io peso 73 Quindi taglieresti un pochino Taglierei un pochino 66 66 66 66 Ho fatto sparring Dopo che mi hanno aperto In due Cioè comunque è buono Incassavo bene No incassavo bene E poi lo stronzo Questo devo dirlo Tony Lo stronzo di Tony Io c'avevo quelli da 10 once C'avevo quelli da sparring Lui c'aveva quelli da incontro C'aveva quelli leggeri Da 10 sono da incontro No lui aveva quelli da 10 E io invece avevo quelli da sparring Quindi a me ogni volta che mi dava un pugno Cazzo lo sentivo Porca puttana se lo sentivo Ma Tony è bravo Quelli da sparring Come sono più pesanti Sono più pesanti Sono più pesanti Da 16 in realtà di solito Da 16 once E li senti di meno i colpi ovviamente Invece con quelli da incontro Cioè senti il pugno Lo senti tutto Fica una bella sfida Una bella roba Anche perché hai una Hai una scadenza Hai una data No bullshit No io vorrei troppo farlo Con dei rapper Cioè per me sarebbe Figo Tu faresti Magari Parteciperesti In questa Come si dice Promotion In questa card My main Io vi dico Posso dire Chi vorrei sfidare Io voglio sfidare Però più pesante Ma allora Raga Secondo me non c'è Cioè A parte che poi È più alto Quindi anche se diventa magro Ma raga Ma può pesare quanto vuole Cioè Davvero Lo dico 100 kg di muscoli Ma lo dico come lo dice lui Non per spocchia Cioè io so cosa so fare Ma lui ha fatto qualcosa Ma va Ha parlato di questo Però viene dalla strada Viene dal quartiere Cioè scusa Puoi vincere 15 su 10 Deve essere sicurissimo Però dai che incontro sarebbe Dai sarebbe una figata Dai Io lo farei di brutto Vabbè Lo faresti Perché Vabbè si farà Perché l'hai deciso tu Ma se viene in mente Un altro che si allena E chi c'è Tony Tony Infatti quanti hanno voglia Di rischiare Quello è il fatto Perché magari uno è capace Eh sì Però non ha voglia Di prendersi la briga Di rischiare Di effettivamente Essere colpito Eh rischi di una figura di merda Ti immagini Quello sì Vecchi bene Tony Va a K.O. Cioè Dici ma perché cazzo Lo fa O direi un sacco di soldi Vabbè no Ma io Le cose le farei sempre Per un fine ultimo Però sai la vermata Che è il denaro Cioè scusatemi Cioè adesso Però ci sarebbe Capito una storia Una roba Cioè venderemmo un sacco Cioè faremmo Veramente una figata Un'americanata Un'americanata Budget Caché Cosa che chiederesti Ma secondo me Guarda Se mi vuole Una milionata a testa Secondo me la tiro su Milionata a testa Una milionata a testa Mezzo milione Mezzo milione a testa Eh infatti Vai mezzo milione a testa Quanti round 12 5 round 5 round 5 round 5 round 5 round Quello che avanza Lo diamo in beneficenza Da cosa avanza Il politica lì corre No vabbè Così abbiamo anche aiutato Non so Il quartiere Sì Ha preso una palestra Sai quelle cose Ha preso una palestra Ognuno aiuta il suo quartiere Lui Io Rozzano E ognuno aiuta il suo quartiere Ah tu sei di Rozzano Io sono di Corsica Però poi a Rozzano Però sono cresciuto Tra Corsico e Bucinasco Sempre il bello A me si è Infranto il sogno da lotta Perché ho fatto box Sei mesi da ragazzino Ma l'ho pure dimenticato Tu lo sai che ho fatto box Sei mesi Non lo sapevo neanche io Perché non mi facevano fare un cazzo Cioè Per sei mesi Mi dicevano Devi avere pazienza E stavo così Sei mesi A fare questo Guardia E poi Questo Cioè Io dicevo Ma io voglio Voglio fare quello che Per cui sono venuto Qui Voglio salire sul ring Non lo so Mettetemi contro qualcuno Vabbè no Contro Ho mollato Ho mollato Magari sei stato un pugile incredibile Non ho avuto il motivatore Cioè C'erano questi anziani Che dicevano Sì Sì Che c'è sta palestra Ciao ragazzi Ma Perché te lo facevano vivere Sì Da lunedì Al venerdì Sei qua Quest'ora Mi dai i soldi Tutta tecnica Io voglio Voglio diventare un campione Datemi Datemi dei sogni Possiamo dire Che l'unica arte marziale Che è inutile È il karate Sì Adesso come adesso Si è un po' perso È il karate raga Io sono cintura blu di karate Si cade No io ho perso anni della mia vita A imparare delle cose Completamente inutili Tipo che il pugno si dà così Un cazzo dal pugno così Che pari così È un doposcuola Ma no Sono delle mossette Goliardiche Cioè No C'è un suo perché dietro là Però sì capisco che poi Nella praticità È un po' inutile Ma no Perché sono tutte delle forme Poi perché comunque Se vai a vedere Perché anche a te Ti facevano fare quelle cose lì All'inizio Perché Per creare un fighter Diciamo Devi partire dalle fondamenta Quindi tutto balance Devi sentire il tuo corpo Quando ti ripugni Non devi sbilanciarti E anche lì Sì Però ovviamente Arriva uno Anche giovane E così Vuole muoversi Dopo sei mesi Ho fatto il primo match Rompevo il cazzo Però capisco Quindi karate Cioè il karate È una di quelle più antiche Che ci sono Una volta Col karate Andavano in guerra Voglio dire Arte marziale No Dei combattimenti Tipo Colpo della tigra Invece una che vorrei fare io È quella con la katana Cazzarola Però È sempre una disciplina del karate Credo La roba con la katana No Si chiama Cacchio Kanjutsu Mi pare che si chiama Kanjutsu Cioè è fortissimo Cazzo Cioè è più forte È quasi più forte Di uno con la pistola Non lo so Con la katana Allora Guardate raga Se mi metti Un tiratore scelto Fortissimo Ok Ma se mi metti Tipo uno Mezzo scarso Che appena ha preso La pistola in mano Una volta Li lancia la katana In testa No non è che Le lancia Ma cazzo Magari Taglia il proiettile No non è che Taglia il proiettile Però gli si avvicina Super veloce Magari questo Si sbaglia Il colpo Paventa Comunque la katana È fortissimo Siamo arrivati a parlare Di uno con la katana È lotta È sempre lotta Comunque C'è quel meme famoso Fai tanto il grosso Poi se ti sparo Muori Eh sì Quando l'uomo Con la pistola Incontra L'uomo senza pistola Adunque quanti Non sanno sparare Con la pistola Cioè Con la pistola Cioè Da qua alla lampada Al massimo Dopo Eh sì Però mi immagino Cioè che lo vedi Lo noti Da lontano Uno con una katana In mano No però una volta È il tempo di mirare Mentre lui fa No no Lo estrai all'ultimo Ti avvicini Ah la estrai all'ultimo Ah ok Allora sì Vabbè Allora anche lui Che ti dà un pugno Senza la katana Senti Vogliamo mimare Dello sparring E mi dici Se sono bravo Vai 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 fate un po' di sparring Ma l'ho visto Io quello Un po' di sparring Con Fede No con Fede Con Tonino Io so fare una mossa Per buttarlo giù Ma tu ci provi Anche con me Costantemente Adesso sparring Mi tolgo Mi tolgo Rolex Che cazzo Nuovo Che mi ha regalato mia moglie Grazie amore Per il regalo Una pubblicità Alla Rolex Dove ringraziare mia moglie Così lo scarico dalle tasse Se lo faccio vedere Ah giusto È una spesa aziendale Allora vai Come è? Se mi metti le manine così Figure Io sono Faccio tutte e due Ah Io commento Perché magari Questo è un podcast audio Quindi Ok Ha tirato un pugno Un altro Com'è? Che dici Marvin Tira forte i pugni O è un po' Senza caricare Senza caricarlo Cos'è quel suono? È il piede o sta Non sta a scorre Ogni pugno un peto Che posso fare io Che però devi stare attento A rampigliare una girocchiata In faccia È questa Assetta è questa Aiuto Hai avuto paura Per un attimo Marvin Numero uno raga Cioè tu abbracci la gamba E ti tira due cazzotti In faccia Perché non ho voluto Buttarlo giù Hai provato Buttarlo giù Aiuto 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 Che bel momento Abbiamo la intro Abbiamo la intro Del podcast Ma perché tu ti prepari Per il takedown Devi farlo C'è il fettone Non devi essere preparato Vabbè ma non ho voluto Buttarlo giù Allora Ti faccio vedere Così dai pugni All'entrata sulla gamba La mossetta Che ci sta Così la vediamo I colleghi Dopo il jab Entri sulla gamba Anzi no Dopo il diretto Scusa Fino il diretto Esatto Fino dopo il diretto Entri sulla gamba Perché sei distratto Il movimento c'è più o meno Sì sì dai Così Cazzurissimo Dai Lui mi parte Mi prende da dietro Mi prende così E non mi fa niente Fuo come io Se cominci a cercare Il paradoss Ogni volta lo strozzarlo Ogni volta lo strozzarlo Guarda Posso? Dai strozzai Ogni volta lo strozzo E non gli faccio niente Adesso sbengo È giusto no? Vai alla spalla E pompa al petto Alla tua spalla Ti stavo strozzando Ti stavo strozzando Sì mi fai Ma io però Cioè io cos'è Che devo stare Senti a far polare Ti faccio sentire la differenza Ok Cioè da qua Io vedi che vado alla mia spalla Un bel momento Black out Sì dai Fede ti sta all'MMA Come io sto al rap Praticamente Ok Come io sto al rap Un match In media Immagino che quei 2-3 minuti Siano No no Beh no Noi facciamo 3 round a 5 Oppure i main event 5 round a 5 E anche il title fight Sono sempre 5 da 5 Ed è infinito Eh sono lunghetti Sì Già Come è stato fare questi mini 2-3 mossette Credo che la roba più Hai il microfono spento Scusate Dicevo che la roba più importante Che devi avere È il fiato No È il fiato Ma soprattutto perché Ci sono così Tanti stimoli diversi Che è difficile Farlo il fiato Nel senso che devi essere Veramente un Cioè un atleta Quella è la rottura Di calcio Polivalente Cioè avere il fiato Farti il fiato È una rottura di cazzo Oggettivamente Ah ma c'è Lì devi avere la testa Corsa Sì Io Lotta a terra Quando ho fatto sparre in Contoni Ogni Ogni tre minuti Mi fermavo E non ce la facevo Ad essere estremante Stare per terra Quello è essere Eh minchia Quello Quando non respiri Io ricordo Quando vedo gli incontri di Kabib Mi fa impressione Perché il tipo a terra È fortissimo E Ho quasi la sensazione Che il tipo riesca A combattere ad occhi chiusi Perché riesce sempre a capire In che cazzo di posizione sei Per farti cadere E non ti fa mai respirare Ti tiene la testa Sono terribili Ti tiene la testa attaccata qui E minchia Non ti fa mai respirare Impressionante Eh sì Anche lì Infatti È l'esperienza Del gesto tecnico A livello tecnico Altissimo E Tu non è che puoi restare teso Per tutto il tempo Devi sapere Quando rilasciare Quando invece usare la forza Certo In base all'avversario Quindi con l'esperienza Cioè c'è un rischio Che ti rilassi nel momento sbagliato E ti lascia una spalla No no Non quello Però magari ti scappa l'avversario Poi dopo devi Riusare un altro Tante energie Per ribloccarlo Riportarlo nella posizione di primo Addirittura ti scappa O ti gira Cioè a livello mentale Il fighting È così Nel momento in cui Comincia il match Quando finisce Devi sempre essere Cioè non puoi mai abbassare la guardia Certo In ogni momento Ti viene da fare lo sborone a te ogni tanto? Sì Tipo che fai tipo Eeeh Pezzo di merda Tira meno un altro Ti parli? Tu parli? Ogni tanto parlo nei match Cioè Pezzo di merda E roba così Sì cioè mi ricordo Quando ho fatto con questo ceceno Che Loro sai con la madre Cioè a parte che anche noi Bon però loro proprio non puoi scherzare Cioè si dice Ma da fa che la prendono malissimo Ah minchia sì Insomma il primo round Stava andando abbastanza bene per lui E E poi No cosa è che è successo? Mi ha fatto Ah no certo Poi gli ho detto Gli ho fatto No anzi no Gli ho detto il terzo round Quando poi le cose sono un po' cambiate Stava morendo Infatti il terzo round Mi ha dato 18 Gli ho detto Come on motherfucker E lui Ho proprio visto che ha cambiato faccia E si è incantato di voi Però io per lì sono stato tranquillo Perché alla fine Mi voleva ammazzare prima Mi voleva ammazzare adesso Sì sì non cambia niente Però è stato assurdo È stato assurdo Perché anche a fine match Morto Morto Perché Ci mancava 20 secondi Che lo finivo quel match Infatti è il pareggio che mi ha andato Che era un po' stretto Ah ok Ok E Mi fa a fine round Cioè no dopo il match A fine match Incazzato A fine match arriva in fa Cioè dopo ci siamo abbracciati Che però mi fa Eh no motherfucker Fucker no Che morto così Che ti sei ricordato No motherfucker Che poi motherfucker Non vuol dire figlio di puttana Vuol dire Scopatore di madre Sì esatto Stronzo Mi piace Che ridere raga Bellissimo I ceceni sono un altro No i dagestani Sono i più tosti Sì Dagestan è della lotta C'è ora sono i numeri uno Eh sì Cioè anche se tu vuoi vedere Nella lotta libera Diciamo che anche Anche le olimpiadi Il 90% dei wrestler Sono tutti Sono russi Ma vengono dal Dagestan Cazzo che terra Allegra Mi sembra un posto carino Dove crescere Non lo so Dai Salutiamo Gigi Sì Vai saluta tu Che io ho fatto la intro Grazie Grazie di essere venuto qui Ci vieni gli Stati Uniti Ci vediamo a Vegas Spacca tutto il bocca al lupo per marzo Grazie Sì sì Londra Quindi siamo anche qua vicini Eh questo era Muschio Selvaggio Grazie